I militari entrano nel Parlamento salvadoregno, giro di vite da parte del presidente Najib Buchele, che ha inteso forzare la mano ai deputati per spingerli a passare una legge che autorizzi la richiesta di un prestito di 109 milioni di dollari per mettere in moto la terza fase del piano di controllo territoriale, volto a modernizzare le forze armate nazionali nella lotta alle pandillas, alle famigerate bande criminali che gestiscono fra l'altro il narcotraffico nella regione, passaggio obbligato dal Sud America, zona di produzione, agli Stati Uniti, ricchissimo mercato degli stupefacenti. Il presidente aveva avvertito che il Consiglio dei Ministri avrebbe convocato una sessione straordinaria del Parlamento per decidere di questo prestito. Questa è un'eventualità sancita dalla Costituzione salvadoregna in caso di urgenza nazionale. L'esecutivo può in questo caso avere un'influenza sul legislativo. Buchele si è rivolto direttamente alla popolazione, attaccando il ritardo con cui i deputati hanno recepito la sua richiesta di approvare con urgenza la misura. Molti deputati hanno rifiutato l'uso di questa legge. Sebbene risulti una forzatura dell'ordine costituzionale, va detto che la corruzione politica è un flaggello in Salvador, dove diversi deputati sarebbero a libro paga dei cartelli, la cui violenza ha reso El Salvador uno dei paesi più pericolosi al mondo.